Tommaso d'Aquino dice che Dio è relazione, in se stesso è una relazione chiamiamo di persone, è una parola che noi usiamo, ma per dire che non è un assoluto, è relazione dentro se stesso e noi esseri umani, siamo umani in tanto quanto ci relazioniamo. Ecco perché viviamo dentro un sistema come questo in cui stiamo vivendo, in cui viviamo semplicemente di egoismo, chi ha si arma fino ai denti, basta vedere la guerra, ha menzionato il Papa la guerra nello Yemen, ma stiamo vendendo noi italiani bombe all'Arabia Saudita che le usa contro il Yemen procurando la più grande tragedia umanitaria al mondo, dice l'ONU. Perché? Ma perché è per i soldi, per il profitto, è ora che incominciamo a capire con le capacità che oggi noi abbiamo, le potenzialità che l'uomo può nutrire tutti. Ecco il sogno di Dio, è quello che la grande preghiera di Gesù, è la grande ispirazione, è quello che Gesù chiamava venga il tuo regno, che venga un mondo dove tutti possono sedersi alla comune mensa, impari dignità, in profondo rispetto dell'un l'altro, ma che ci sia il pane necessario quotidiano per ognuno.